Bello a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo episodio della nostra serie Master League, signori Swiss Pro Evolution Soccer 2. Signori, nel video di ieri si è conclusa l'avventura con la Roma che ci ha portato ad arrivare secondi in Serie B il primo anno e poi il secondo a vincere il campionato di Serie A. Abbiamo fatto una bella squadra, ma oggi si mette un punto, ieri abbiamo messo un punto e oggi ripartiamo con una nuova avventura. Io spero sempre nel vostro supporto e nei vostri consigli e spero che questa nuova avventura vi possa interessare come è stata per la prima stagione fatta con la Roma. Signori, prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti precedenti e per il supporto. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale. Signori, oggi si riparte con la Master League, signori. Sarà una nuova Master League in cui andremo a giocare 10 minuti per forza stagione piena, livello di difficoltà difficile, signori. Facciamo il passaggio superiore. Ci riusciremo? Non lo so. Ci proveremo? Certo. Finirà male? Molto probabilmente, signori. Molto probabilmente finirà male. Se volete, probabilmente sarà molto più lunga rispetto alla stagione con la Roma, però noi ci proviamo, ci proviamo. Come ho detto, come ho anticipato nel video di ieri, partiremo con l'Inter, signori. Che tanto la base della squadra sarà sempre la stessa. Ma cercheremo di fare selezione casuale. No, 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 no. Partiamo con l'Inter, signori. Decisi. Partiamo con l'Inter in serie B. E facciamo casuale, signori. Quello che avviene, viene. Dortmund, Leeds, Ajax, West Ham, Marsiglia, Chelsea e Fiorentina. Ok, va bene. Mi sta bene, mi sta bene. Rispetto all'anno scorso abbiamo il West Ham, l'Ajax e il Dortmund. Dortmund, di nuovo in serie B insieme a noi. Chelsea, Fiorentina. Ah, è la Fiorentina, sì, sì. Ci sono semplicemente Marsiglia, Chelsea e Leeds. Va bene, comunque. Sì, signori, sono carico. Sono carico a pallettoni. Partiamo con questo primo video. Non abbiamo perso troppo tempo a fare la selezione delle squadre. Gli abbiamo fatto affare a lui e va bene. Obiettivo di quest'anno, signori. Vincere intanto il campionato di serie B, che cosa che non c'è riuscita l'anno scorso. Ok. Quindi andiamo a giocare con Marsiglia, Dortmund, Leeds, Chelsea, Fiorentina, West Ham e Ajax. Ok. Ok, facile, facile, facile. Noi abbiamo, quanti punticini abbiamo di partenza? 20 punticini. 20 punticini. Il nostro primo obiettivo, signori, ovviamente potrebbe essere il buon caro Babangida. Che però, 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 Babangida costava 24. 24. Non penso che andremo a riprendere Babangida quest'anno, signori. Se non proprio a fine stagione, proprio per ricordare vecchi, bei momenti. Quest'anno, ma il buon Babangida lo sostituiremo con il buon Roberto Carlos, signori. Quest'anno, ma me lo compro. Non mi dite cose, non mi dite altro. Ci vogliono 36 punti. Ce lo porteremo a casa. Molto difficilmente, ma ce lo porteremo a casa, signori. Intanto, in tutto questo, non possiamo fare altro che procedere all'incontro successivo. Sì. E scendiamo in campo per la prima partita ufficiale di questa nuova stagione, signori. Sì, potremmo dirla così. Questa nuova stagione che ci vede a comando dell'Inter. Allora, non è una cosa molto... Andiamo a fare la formazione. Oramai abbiamo una nostra formazione base sulla quale ci fidiamo ciecamente di queste situazioni. Io non esagero come l'altra volta perché non abbiamo più i giocatori veloci che avevamo nelle scorse episodi. Quindi, intanto, giochiamo un attino più coperti. Però va bene. Allora, andiamo un attimino a capire come chi cazzo lo fa a giocare. Allora, io direi di rimettere Valery con Stromer. 1,83 e 1,83. Ok, sulla fascia, Ducic e Jorga. Va bene, ci teniamo loro. Cicci? No. Ci andiamo a mettere Vorlanden che torna a prendersi il suo posto da medianone. Sulle corsie Spimas e Xmenes per forza. Miranda trequartista, Bollatta Castello. Diciamo che partiamo così, signori. Non penso che ci sia qualcuno di più promettente in... Diciamo che è questa la nostra formazione. Andiamo a fare un copia formazione. Mettilo... Mettilo lì. Salviamo. E speriamo che vada tutto quanto per il verso giusto. L'ha copiata? Sì. Speriamo che l'abbia copiata. Gestione d'età di formazione. Va bene, dovrebbe averla copiata. Signori, scendiamo in campo contro il Marsiglia. Contro il Marsiglia. Prima partita che si prospetta già complicata. Marsiglia, 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 Marsiglia. Va bene. Stiamo calmi, signori. Nuova avventura. Siamo l'Inter questa volta. E dovremmo riuscire a ripetere l'impresa della magica a Roma, signori. La magica a Roma. Allora, devo convincermi che non è cambiato niente. Devo convincermi che non è cambiato niente e che siamo sempre alla stessa maniera. Mamma mia, è tornato Bolatta. È tornato Bolatta, signori. È tornato Bolatta. Voglio arrivo. Grandissimo Valery che si mantiene normalmente sui suoi livelli. Diuci. Diuci. Diuci per Ximenes. Ximenes. Non so che cazzo l'ha visto, ma ci sta bene. Provaci. Mannaggia. Mannaggia, managgia, managgia. Calma. Calma e stanco e freddo. Calma e stanco e freddo. Fuori gioco. Va bene così. Sono passati 5 minuti e non abbiamo ancora subito gol. Questo è già una cosa importante. Questo è già un buon punto di partenza. Grandissimo. Al vuoto. Al vuoto. Al vuoto. No, che cazzo la vuoi dire? Dillo in italiano. Dai, 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 dai. Grandissimo. Mannaggia. Eh, senza quelle due bestie sulle fasce, signori, sarà molto difficile attuare il gioco che facevamo l'anno scorso. Tena, tena. Grandissimo. Apri, apri, apri. Bravissimo. Non so. No, va bene, va bene. Finta di tiro. Oh, siamo riusciti a tirar, però. Dove essere una sorta di finta di tiro, ma invece gli è partito il tiro direttamente. E va bene. Lo giustifiamo. Vorlanden. Vorlanden per Miranda, Miranda. Per Ximenez, Ximenez. Per Castello, Castello. Per Bolatta. Bolatta, Bolatta, Bolatta. Vede Castello di nuovo. Ma non gli riesce il passaggio. Manneggia. Manneggia, manneggia, manneggia. Attenzione, attenzione. Non possiamo avere dei buchi difensivi, signori. È vietato avere dei buchi difensivi, sappiatelo. Cosa cazzo la fa? Chi sei che ti butto fuori subito? Ho appena detto che non possiamo avere dei buchi difensivi e questo la passa così la palla. Dai, Miranda. Dai, Miranda. Che l'anno scorso eri ottimo. Eri un buon giocatore l'anno scorso. Stromer. Grandissimo Stromer. Vorlanden. Vorlanden che è tornato sulla mediana. Si è ripreso il posto. Manneggia. Alle vostre sorelle. Alle vostre sorelle. Alle vostre mamme. Manneggia. A tutti quanti i vostri parenti. No, 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 no. Fuori, 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 fuori. Grandissimo. Grandissimo. Va bene, va bene, va bene. Calma, calma, calma. Miranda. Miranda, Miranda per Ximenes. Ximenes. Mannaggia. Che cazzo fa il balletto? Maledetto. Voi mi prende in giro pure. Attenzione. Occhio, 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 occhio. No. Brutto fallo. Brutto fallo. In una posizione bruttissima. Bruttissima. Meno male che i piedi storti. Meno male che i piedi storti. Meno male. Meno male. Meno male. Meno male. Meno male che i piedi storti. Lì non ci sta più babangita. Io ero mai... Vado a memoria, signori. Vado a memoria e non va più bene questa cosa. Perché non ci sta più babangita lì. Valeri si è fatto superare. Che è il mio difensore centrale. Valeri. Bene. Meno male che hanno sbagliato. Con calma. Con calma e sangue freddo. Signori, io... Sento proprio la mancanza di babangita. Proprio è una questione di pelle. Proprio. Attenzione. Attenzione. Bolatta. Bolatta. Bolatta mio. Aia. 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 Dai. Calma. 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 Ivanov. Ivanov. Grandi Ivanov. Oh, stiamo tenendo un tempo, signori. Non si scherza. Stiamo tenendo un tempo. Diuscic. Per Ximenez. Per Miranda. Ancora. Cercala lui. Ok. Passala indietro. Va bene. No. Non va bene niente. Non va bene niente. Che va bene. Dai. 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 Che avevi il tempo. No. Va bene. Ma che cazzo lo dico l'hanno trovato? Ma dai. Ma che cazzo lo dico l'hanno trovato? Ma no. Ma non esiste. Ma non esiste che ci segnano così. Non esiste che ci segnano così. Ma mannaggia. Mannaggia di quella mannaggia. E dai. E dai. Dai. Grandissimo Valery. Grandissimo Valery. Ximenez. Ximenez. Ok. Per Miranda. 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 C'ha ragionato troppo Miranda. C'ha ragionato troppo Miranda. Perché si è andato oltre? No. Cazzo rolla come l'ha stoppata bene. Cazzo rolla come l'ha stoppata bene. Parte il traversone per via centrale. Pallone che non viene messo fuori da nessuno. No. Vabbè. Dai. Ma che. Inizia malissimo questa prima. questa prima partita. Della nuova serie signori. Inizia proprio male. Inizia proprio male. Evitiamo di prendere il cappotto. Cazzarola. Io posso capire tutto. Dico ma. Avevamo tenuto il primo tempo. Porca miseria. Avevamo tenuto il primo tempo. Mannaggia a voi. Primo tempo eravamo riusciti a riuscire. No. Vabbè. Sandoviva 9 che ci salva dal 3 a 0. Attenzione. Castello. 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 Eh sì. Devo un attimino riabituarmi a giocare con questi scarponi. Giustamente. Siamo pure al livello di difficoltà più alto. Quindi. Si preannuncia tutto. No. Ma perché mi devi scambiare il segnalino quando io sono. No. Ivano Vesci. Mamma mia signori. Mamma mia. Meno male che ho detto il Marsiglia. Ma il Marsiglia. Si può valutare. Porca miseria. Se il Marsiglia si può valutare. Quando gioca con il Chelsea. Praticamente che. Ci asfaltano malissimo. No. Devo riabituarmi a giocare con questi scarponi. Purtroppo. La questione sarà molto lunga e complicata. Molto lunga e complicata. Decisamente. Sì. Avevamo una cazzola di super squadra. Perché io parto. Perché mi vengono in mente. Di fare queste cose. Dico. Avevamo una super squadra. Potevo comprarmi il Ronaldo. Potevo comprarmi il Ronaldo. Roberto Carlos. Avevo detto che l'avrei fatta. Invece no. Mi trovo a perdere 3 a 0 contro il Marsiglia. Va bene. Va bene. Non ci disperiamo signori. Non ci disperiamo. Non ci disperiamo. Non ci disperiamo. Non ci disperiamo. Ci dobbiamo disperare? No. No. E' il momento. No. Ma che cazzarola di farlo fai. Ma che cazzarola di farlo fai. Meno male che non ti ha ammonito. Meno male che non ti ha ammonito. No. 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 Le praterie. Grande Ivanov. Allora. Mi sa che quest'anno Ivanov. Ivanov. Mi sa che quest'anno. Troverà un suo successore Ivanov. No. Ma scusami. Ma l'avevamo passata. L'avevo passata la palla. Sì. Vabbè. Dai. Però fisicamente che non tengono. Porca miseria. Porcaccia. Voglio Davids. Rivoglio il mio Davids. Rivoglio Davids. Rivoglio Mastino Davids. Grande Miranda che non manda a foto. Grandissimo. Vai. 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 Bollata. Per cas... No. Vabbè. Dai. Io che poi sbaglio questi interventi. Dobbiamo un attimino. Rinventare tutto quanto il nostro gioco. Decisamente sì. Dai. Parti. Però mannaggia a te. Siete in otto. Siete in otto. Nessuno è riuscito a fermarlo. Nessuno è riuscito a fermarlo. Non ci posso credere. Non ci posso credere. In otto. E nessuno gli ha messo il piedino per fermarlo. In otto. E nessuno gli ha messo il piedino per fermarlo. Ma porca miseria infameo. Ma porca miseria infameo. In otto erano. In otto. E nessuno gli ha messo il piedino per fermarlo. In otto erano. E spimas mio. Dai. Ma che... Ma quantomeno il gol della bandiera. Ma lo potevano fa faverlo. Dai. Maledetti. Maledetti. Ruba la palla. E poi però... Un inizio col botto signori. Un inizio sfumeggiante. Un inizio sfumeggiante. Peggio dell'anno scorso. L'anno scorso forse avevamo perso 1-0. La prima di campionato. Quest'anno 4-0. Mi sa che il campionato quest'anno sarà molto lungo e complicato. Molto lungo e complicato. E va bene. Ma noi non ci facciamo scoraggiare da questi primi... Da questi primi... Da questo primo risultato signori. La stagione è lunga. La stagione è lunga. Lo sappiamo. E noi non siamo qui né per deprimerci né per... Eh! Bello! Bello! Sera che... No dai! Ma che... Valeri, 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 Tienilo. Tienilo, Valeri, Tienilo. Va bene. Ivanov? Ok. Eh vabbè signori. Capita. 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 Di fa... Ste cagate terribili. Ok. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. No, 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 no. Ammazzalo. Fai quello che vuoi. Strongagli... Distruggilo. Fai qualcosa. Giorga. Mamma mia che sono lenti. Mamma mia che sono lenti. Ma quant'era bella vera e babangita. No, mannaggia, perché mi ha chiuso troppo la traiettoria, mi ha chiuso troppo la traiettoria, mannaggia. Posso sbraitare? Posso sbraitare? No, non posso sbraitare, vero? Va bene, va bene signori, va bene, va bene, va bene, va bene. Eh, diciamo che il livello difficile è veramente difficile. Passare dal... Vabbè, ehm... Devo riabituarmi, signori, devo riabituarmi. Con calma e sangue freddo riusciamo a fare tutte le cose, non vi preoccupate. Con calma e sangue freddo riusciamo a fare tutte le cose, mannaggia. Tocca, la tua pasta, la pasta, la tua... Grandissimo, tiro, tiro, tiro. Finta di tiro, finta di tiro. Devo ricordarmi le finte di tiro. Le finte di tiro, eh sì, che... Mamma mia quanto nervosismo faremo, signori. Mamma mia quanto nervosismo faremo. 4-0 col Marsiglia è pesante. Porca miseria se è pesante 4-0 contro Marsiglia. Però va bene, però va bene. Ricordiamoci che anche con la Roma a livello più facile eravamo partiti con le sconfitte, con non riuscire a segnare minimamente. E invece poi siamo riusciti addirittura anche a vincere lo scudetto e a portarci a casa. Tanti bei giocatori. Quindi, signori, noi saremo come le fenici. Dobbiamo rinascere dalle nostre ceneri. Questa brutta sconfitta è una brutta sconfitta. Mi manca Babangita. Mi manca Babangita come l'aria. Però va bene, però va bene, però va bene. Dalma. Mamma mia, Dalma. Mamma mia, Dalma. Dai che fuori. Lasciala che fuori. Finiamo questa partita, ti prego. Ti prego, finiamo questa partita. No. Giustamente il quinto gol che fai. Non glielo fai fare. Non glielo fai fare il quinto gol. Mannaggia le vostre sorelle. Basta, Dalma. Albi, lo fischia sta cazzola dei fini di partita. Mamma mia, una sofferenza. Una sofferenza, una sofferenza, una sofferenza. No, guarda che sfortuna. Oh, via. Buttala fuori. Basta. Va bene, signori. Prima partita che inizia malissimo. Però ci siamo, però ci siamo. Però ci siamo. Però ci siamo. Ci lavoreremo, ci lavoreremo. Ci lavoreremo. Le imprese, è una sfida. È una sfida che dovremmo affrontare. Tutto in 30, 36, 44 e 58. Va bene. Ma noi siamo qui per accettare le sfide, per affrontarle e per vincerle soprattutto, signori. Quindi va bene così. Va bene così. Va bene così. Partiamo malissimo. Partiamo malissimo. Siamo a zero punti insieme a Leeds e a Chelsea. Bene. Leeds e a Chelsea che hanno preso anche loro tre pere. Però va bene. Detto questo, signori, io vi ringrazio per il video. Vi ringrazio per il like, per i commenti, per i suoi genitori e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga. Ciao.